bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e vi chiedo scusa ragazzi vi chiedo scusa ieri ero convinto di avere trovato il wallpaper della stella segreta della settimana numero 5 di fortnite in realtà raga non era quello non ho capito che caspita di wallpaper ho trovato io ho trovato il wallpaper della settimana numero 6 scusate quindi voglio ragazzi farvi vedere vedete alle mie spalle il wall della settimana 5 quello che si ottiene completando tutte le sfide eccolo qua alle mie spalle e ragazzi come potete vedere molto meglio di me qui adesso ve lo ingrandisco un pochettino si vede benissimo ragazzi sul muro esattamente là che la stella segreta della settimana numero 5 altro non è che sul granchio di putrido pantano quindi ragazzi senza 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 perderci ulteriormente in bagianate direi assieme di togliere la schermata ragazzi e di andare mi togliere la schermata e di andare a recuperarla tagliamo un pochettino di legna la prendiamo assieme ragazzi costruiamo una rampa il granchio è quello lì ragazzi ovviamente tutti sappiamo dov'è il granchio a putrido pantano andiamo a spaccare un pochettino di roba per prenderci la legna ci andiamo a cercare la stellina e poi tutti belli felici ci portiamo a casa un livello extra del pass battaglia vediamo se mi basta questa legna innanzitutto aspetta un attimo aspetta torna su torna su ritorni sul signore serve ancora un pezzettino non dirmi che non mi basta la legna non dirmi che non mi basta la legna ok qua ci siamo un po di legna per terra ma neanche per scherzo vediamo di qua se riusciamo a buildare per andare sul sulla testa del granchio direi che qua ci siamo e ragazzi eccola qua stellina segreta ragazzi gg del nostro mega mega granchione come vedete sopra la testa ci fa vedere tutto il bellissimo putrido ce la portiamo a casa e andiamo a prenderci un livello del pass battaglia abbandoniamo la partita vediamo un pochettino dove arriviamo eccolo qua state rivedendo la schermata finale ragazzi la schermata numero 5 non so se me l'abbia data perché adesso io ho quittato quindi credo non me l'abbia data fa niente comunque ragazzi avete visto dov'è beh io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto vi chiedo ancora scusa se quello di ieri era sbagliato non ho idea non ho idea di quale cacchio di settimana sia noi ci vediamo in live ciao 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 Grazie a tutti.